Burian è arrivato, non si è fatto attendere neanche nel Salernitano dove dalle prime ore della mattina ha fatto subito registrare un brusco abbassamento delle temperature portando i primi fiocchi di neve che se in città hanno solo imbiancato le strade, nelle zone collinarie ha invece ghiacciato strade e coperto diverse aree. Sin da subito le prime difficoltà si sono avute sulle autostrade e sul raccordo Salerno-Avellino con lunghe code di auto e camion in diversi svincoli dei comuni della Valle dell'Irno. Ancora più complessa la situazione sull'autostrada Salerno-Napoli dove la viabilità è andata completamente in tilt e gli automobilisti sono rimasti intrappolati per più di due ore sull'intera tratta. Situazione difficile nella zona di Cappelle, Matierno, Iara, Giovi e Casamanzo dove solo in tarda mattinata sono arrivati i tecnici e gli operai del Comune della Protezione Civile che hanno dovuto spargere sale per consentire alle vetture di transitare. Proprio qui nella parte alta di Sala Bagnano anche i pullman sono stati costretti ad arrestare la corsa per scongiurare pericoli nella discesa per il manto stradale ghiacciato. Una situazione critica ma tenuta comunque sotto controllo anche perché stamani come ha dichiarato il sindaco della città di Salerno Vincenzo Napoli in occasione dell'avvio dei lavori all'area mercatale di Pastena non si è convenuto di chiudere neanche le scuole in quanto il bollettino meteo della protezione civile prevedeva un livello di allerta meteo verde quindi non rilevante a tal punto da consentire ai sindaci di chiudere le scuole. Per l'ondata di gelo invece il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli di concerto con l'assessore alle politiche sociali Nino Savastano ha disposto il prolungamento del servizio di accoglienza dei senza tetto nella struttura di via dei Carrari che stanotte ha già accolto quasi una trentina di persone. Fino a quando non terminerà l'emergenza freddo nelle adiacente al ristorante sociale Elpis saranno invece offerti pasti caldi a chi trova ricovero nella struttura. In accordo con la Croce Rossa e il Comitato di Salerno inoltre verranno distribuite coperte termiche e bevande calde ai senza fissa dimora di concerto con le altre associazioni di volontariato che svolgono il servizio di unità di strada sul territorio. Ieri sera sono stato fino alle 11.30 in prefettura a un tavolo per la viabilità. Mi è stato dinamato un'allerta meteo verde, quindi l'allerta meteo più bassa pensabile possibile. E quindi voglio dire che non ho chiuso le scuole perché chiudere le scuole sembra un'azione semplice. In realtà comporta disfunzioni all'interno delle famiglie. Se i bambini restano a casa i genitori devono adeguare il loro ritmo di vita con questa contingenza. Io mi fondo e mi fido dei dispacci che mi manda la protezione civile. Guardando uno sguardo molto più artigianalmente a tre bimetero mi pare che le situazioni non siano da cataclisma in tutta onestà. Stamattina di buon'ora ho fatto un giro nelle frazioni alte, c'è una difficoltà materno alla quale stiamo sopperendo con l'invio degli spargisale. Insomma, ragazzi, non mi pare che sia successo la fine del mondo in tutta onestà. Insomma, altrove, questi climi, che ne so, a Belluni i ragazzi non vanno mai a scuola, come funziona? Invece ci si copre bene e si va a scuola. Per il resto si fa in modo da attenuare al massimo le difficoltà. Ieri sera in prefettura ci siamo occupati del traffico, per la verità, delle strade, delle percorrenze. E anche da questo punto di vista abbiamo adottato insieme al comandante Cantarella e insieme alla prefettura una serie di presidi rispetto ai quali ci siamo attrezzati. Bene, seguiremo naturalmente, momento per momento, l'evoluzione della situazione climatica e con un atteggiamento dinamico, nel senso che laddove c'è bisogno di un presidio nell'immediato lo facciamo. Però io suggerirei massima serenità. Vedi, noi abbiamo questo centro che raccoglie gli ultimi senza tetto, diamo pasti caldi grazie a un accordo che abbiamo fatto con il ristorante sociale, abbiamo distribuito le coperte. Mi diceva Luca Caselli, che è il dirigente della protezione civile, che l'anno scorso abbiamo comprato 90 cucette per gli eventuali ospiti dei nostri canini. Insomma, mi pare che facciamo quando nelle nostre umane possibilità, tenendo conto che poi a Saleno sono degli episodi spot che si verificano, grazie a Dio. Grazie. 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 Grazie.